e ciao a tutti qua da carlubo siamo tornati in deadpool eravamo rimasti qua che siamo schiantati vediamo se wolverine si sveglia basta non si sveglia e niente stiamo scoputi per sinistro oh cazzo una sentinella parca puttana sono sempre tosti questi ah è il momento va al massimo deve essere il momento che non ci serve ah è una nuova mossa momentum me la vedremo dopo dopo aiii ok Che cazzo è U? LBPX abbiamo una nuova momentum Dovevo vedere com'è Ah LBX ho sbagliato Wow Dovevo Perché la pistola? Dovevo provare a evitare i damage con il nostro telefono Ok Vai 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 Ok Perfetto ragazzi Altri tici Vai Dove cazzo vuoi andare Ah è storditi Oh la Ok Andiamo avanti ragazzi Andiamo avanti No no mi sta la roba Ok Vai vai Olle Che perfetto Ok Ah dovevo comprare delle bombe Mi sa ragazzi Eh si Flashback dei granate Oh vediamo se possiamo Ah no Si possono solo comprare Ok perfetto Come si lanciano Dove si lanciano Ah ecco No Ah che cazzo Ah Cable Eh 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 Sì potremmo chiedere attenzione questo buon esplendimento di Wattler la survival dell'Earth è completamente dipendente che tutto sceglie a te Wade ora c'è la parte critica è così male premiera e ti va a farlo smettere oh man did that hurt so we give cable the slip looks like he left a note what does it say? idiot, meet me at the north end of the city what? who the hell is cable to give us orders in our game? yes, if you don't arrive within one hour you'll miss the incredible large breasted naked woman who claims to be your biggest fan? oh don't fall for that one again but what if cable means it this time? we can't take any chance large breasted naked fan lady trova la tua fan numero uno wow oh prendi la gerazzi pesante oh hey, you guys see a cute girl walk by here? seems like she might be into a dude horribly disfigured oh oh I can'ter this new wow I have tocharge oh uh and i'm we're out of a b to that oh rim ok vai mi stanno mitragliando vaffa schifo stiamo morendo cosa si oh no vai ma in due è impossibile in due è impossibile vai fuori uno fuori due benissimo ora ci dobbiamo riprendere la mitraglietta perché ah non ho munizioni vabbè ok muovilass wow che è il sonno di un arm di roboteo chiamando oh damm ah 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 oh dio no ok scendiamo ok dobbiamo ammazzare qualcuno mi sa si no devo fare y non ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato allora saremo sopra ho sbagliato ho sbagliato ok ok benaggia ok 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 e ora qua qua ah c'è sul serio x per palpare vai ho sbagliato Sì e vabbè lo dobbiamo fare qua vai ok allora adesso andiamo avanti ragazzi e arriviamo alla torre ma ce ne stanno altri ah eccolo questo lo faccio con il rt vai oh 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 oddio mi sa che mi hanno sentito però ok quindi ragazzi entriamo che cazzo è? giriamo no oh merda sali in cima alla torre e spacca il culo a sinistro ok so già come fare ragazzi ora prima di tutto cambiamo arma i potenziamenti? subito ok si può aumentare qua ok vediamo cosa possiamo fare più niente più ok ok è un casino adesso ok eh lo sapevo e ora ok ok viene fino a qua ah ancora la mucca una mucca? una collina? una collina? bella collina una collina? una collina? una collina? un attenzione di testo? sulle collina? sono qui scoperta Cosa c'entra la mucca, non lo so. Mi sta avvenendo il mal di mare. Dovevo andare su questa. Che ora basta saltare appena riesco. Ok. Vediamo se siamo fortunati adesso. Oddio. Sì dai. Oh merda. Ok. Ci siamo quasi. Merda. Dov'è la piatta polla? Ah ecco. Ok. Aspettiamo. Perfetto. Ok. All right sinister. Time to pay the pay and what the hell happened to you? That looks very uncomfortable. You. 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 You repulsive putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world. No. Nothing you do will stop my master plans. Hey, wait, wait. Are you stuck in there? No. That would be ridiculous. Oh, so then you wouldn't mind if I played with this. No. Wait, what are you doing? No, don't touch that. I don't know about you, but... Oh my god. Oh my god. Bellissimo. Bellissimo. HAHAHAHA HAHA 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 DIGO FING HAHA WAIT WHAT DOES THIS ONE DO? HA UH OH OOH OOH DIGO FING habe HMM OKAY then the to cont precisely thank you i I W Oh, il fine del gioco! Mi piate per culo, mi piate! Oh, bene! Sì ok ragazzi penso che per adesso ci possiamo fermare ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi vai oh 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 oh